Voglio morire, non ti sentire, lasciami dire Voglio morire, voglio morire Eravamo sotto Natale, pensa andare sotto le feste avendo regalato una partita Ma l'obiettivo numero uno è andare a rovinarsi le feste Far l'arito ricordando allegri, come stiamo messi oggi, come stiamo messi Ultimo video delle pagelle del 2020 Se per caso vorreste rivedermi nel 2021 a fare questo cazzo di tipo, di format Io sparo lì 5000 mi piace perché guarda oggi fare il video è un'agonia Ma è spogato anche il foglio dove mi ero messo lì a strapolare dei voti Per questa gente, dei voti cazzo Vi ricordo che domani siamo in live Se volete riparlare di questa gara con me dalle due del pomeriggio Per la visita di Natale, abbiamo i premi della Weekend League su FIA21 Nel secondo link in descrizione della piattaforma viola Siamo lì in stream, se volete fare una ghiacchierata domani dalle due Perché oggi non voglio vedere nessuno nella serie A nulla Niente Quindi ragazzi, seguitemi su Instagram Alessio Tattino Pastorufus Per provare a partecipare prossimamente nei prossimi video delle pagelle A questo video qua dove prendo sempre i vostri commenti migliori Come ho fatto in tutti i video Ma in questo no perché non avevo neanche il coraggio di chiedervi il parere E soprattutto mi raccomando Primo link in descrizione c'è OneFootball La migliorata per il calcio disponibile ricattivamente per iOS Adiati che vi tiene aggiornati a 200 soldati sulla vostra squadra del cuore Per quello che sarà un calciomercato Che potrà portare nuovi colpi Come ha detto Pirlo e ha E quello che può essere soprattutto Una data di recupero di Juve Napoli E ne riparlerò più avanti Adesso non me ne frega un cazzo Perché si parla di partita E oggi c'è una partita da parlare, da commentare Quello parleremo in futuro Si parte Ecco, prima di cominciare Un minuto di silenzio per la bottiglietta Scalciata da Ron Ramsey Al momento della sostituzione Ma il cazzo me ne frega Lui non doveva giocare Non doveva giocare Doveva giocare Rabiot Preparata Che succede? Deve giocare perché se no Rabiot addirittura Squalifica roba, casino Si legge che ci potrebbe essere addirittura un ricorso Che potrebbero fargli partire anche la prossima Partita con Udinese Mi dispiace per Aaron Che ha bisogno di trovare continuità Poteva giocare Niente Rabbia, frustrazione Giochi Non giochi Giochi E poi esci Perché deve uscire qualcuno Se parte un difensore E purtroppo Ci abbiamo rimesso anche in quello Codice fiscale L'uomo con il quale Se ci giochi Si narra leggenda Prenderai sempre gol Ma oggi Che colpe può avere? Parata su Castrovilli Milacolosa Ci tiene ancora in galla Per praticamente tutto il secondo tempo La parte finale Perché quindi il voto è pompato Per questo Comunque è un 6 Perché sul gol di Vlaovic Io Mi consento di dire che Vlaovic Quando entra in area di rigore Sbaglia il controllo Ti allunga il pallone Tu se sei un vero portiere Lì fai il muro Oppure Ritorna tra i tuoi pali E non gli concedi niente Perché Quelli sono gli episodi Che svolta la gara Certo Non è colpa tua Prevalentemente di quel gol Subito Ma qualcosa ti devo stare Anche sapere organizzare la difesa Parlargli Non bestemmiargli per forza Però Dare un po' accortezza Chiamare l'uovo che scappa La difesa alta Nel primo gol Non lo so Qualcosa Un portiere ha sempre Qualche piccola responsabilità Ogni gol subito Da parte della sua difesa Ora Quadrato Eri ancora incazzato Perché La Fiorentina Era la tua ex squadra E volevi dimostrare Ancora qualcosa Perché io conosco Prendere cartellini rossi Contro la Fiorentina È successo a Cullibali Qualche anno fa Perché comunque Era ultimo uomo Lo stendi Perché il rosso Di solito lo prendi Quando stai difendendo Per non far far gola Agli altri Qua abbiamo preso rosso Perché se abbiamo fatto Una finta E poi hai fatto fatto Noi prendiamo i cartellini rossi Attaccando Non difendendo Attaccando Siamo gli unici nel mondo Cambia la partita ovviamente Dopo la sua espulsione E non parlerò Troppo Di episodi arbitrali Perché oggi Oltre a quelli Che sicuramente Hanno evidenziato La gara E un po' L'hanno cambiato Perché bisogna essere onesti Il rosso Di Borca Valero Che ci poteva stare Un rigorino Tra due Ne potevi da uno Ma Lascia perdere Parlo dei voti Di Ocam Perché qua finalmente Ci devi vincere lo stesso Dei Ligt Cinque e mezzo Allora Sul primo gol Onestamente Non è il principale responsabile Però ugualmente Tu mi parti molto sottovalutando L'attaccante Viola Perché se lo lasci libero in mezzo a due Se il tuo compagno è un disabile Io gli reggo la carrozzina Quindi in qualche modo Gli sto dietro Se so che è un impedito A difendere Perché Parliamoci chiaro Vlaovic Ha lasciato solo in mezzo a due Abbiamo sottovalutato Questa cazzo di gara L'abbiamo sottovalutata E poi sul terzo gol Vabbè Liscio su Castrovilli Perché Castrovilli Doveva rimadire a rete E ok Cinque e mezzo Comunque Non mi consento di dare Un'insufficienza Troppo pesante Eccolo 423esima presenza Con la maglia della Juve Sembrava fosse la prima Per come ha giocato oggi In un pulcino Che dici Lo metti in campo Deve avere esperienza Deve sapere guidare la difesa L'uomo che non si infortunia mai Ecco perché tutte queste presenze Perché se no non saresti Il tredicesimo giocatore Con più presenze della Juve Tre 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 Come i gozu metti E anzi sarebbe Quattro alle cappelle Perché i gozu metti Dovevano essere quattro E lui riesce a essere colpevole In tutte Quante le occasioni Primo gol Se lo perde Il tieni lina Vlaovic Olè Pam Secondo gol Direte Cosa ha sbagliato Cazzo è un cross Innocchio di biracchi Me lo lisci con quella Cazzo di gamba Ballerina Terzo gol Terzo gol Va a centrocampo Affanascita a Firenze Sembravano i cinesi Che vanno a mangiare L'antico vinaglio I panini Sperduti Col GPS Riberì Ha stufiato palla Riberì 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 Ha fatto il difensore Poi il gol Maggiato da Castrovilli Parte da un suo passaggio Sbagliato Tutto quello Che si poteva sbagliare L'ha sbagliato Borucci Alexandro Compagno di 104 Insieme Fanno la 208 Voto 4 Tolto l'autogol Che può essere anche Causa di un liscio Di Borucci Ma anche lì si capisce Quanto sei Mobilitamente Bloccato con le gambe Mi vai a rivedere Come nasce il gol Entra qua a me E ti perdi Una rimessa laterale I pulcini I pulcini Riuscivano a gestire Meglio No mi venite a dire Che c'era stanchezza Perché si giocava Con l'uomo o meno E quindi questi errori Ci possono stare Perché non esiste Poi Sull'azione di Castrovilli Primo tempo Guarda 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 l'azione che va avanti Guarda Guarda come siamo messi in campo Dove Dove Scorrono le slide Passa il tempo Dove è Alexandro Non c'è Non c'è Non c'è Appare solo alla fine Uno che dovrebbe Stare in difesa Poi Terzo gol Cáceres L'hai fatto diventare Sergio Ramos Gli hai fatto fare Tutto quello che voleva Cáceres È diventato un mostro Quattro E l'hai perso Pure nella barcatura Del terzo gol Complimenti Ora cambiamoci Se non mi viene a me Non il fatto Bentancur Sì A proposito di Di ultimo gol Non È isolato Ragazzi È isolato Disperso Disperso Non ha un compagno di reparto Che oggi L'ho aiutato Perché oggi giocava da solo In mediana McKennie non ha fatto il mediano Ha fatto mezza punta Nel secondo tempo Mettacura aveva palla Il deserto del Sina Di Gesù Cristo Non c'era nessuno A cui passare il pallone Chiude come unico centrocampista La gara Cinque meno però Perché Comunque Perde Ribery Perde Ribery in questa azione iniziale Che è una lettura tattica Da rivedere Perché se tu lasci solo Ribery E io conosco molte squadre Che Ti ricordate quando ci marcavano Piani Ciao uomo Completamente Siamo qui in questa azione Sei Contro Tutta la Fiorentina Con Ribery e Vlaovic Unico avanzato Che se lo prendono in due Ma Ribery Lì solo in mezzo Bentancur Eccolo Nella terra di nessuno Che se lo lascia Tutto libero di girarsi Riflettere E ragionare Non puoi farle A un giocatore del genere Abbiamo sottovalutato Continua a dire In questa gara McKennie Ascoltate Io Non mi consento Di dare un bel voto A McKennie Perché oggi Ha contribuito A Bentancur Di lasciarlo troppo solo Non mi basta L'agonismo Cioè E' una partita difficile Per tutti Certo il voto Non può essere una sufficienza Dopo guarda Un 5 e mezzo Ma sicuramente Aveva bisogno Di riposare Parto da questo presupposto Secondo me Era lui L'uomo che doveva riposare In questa gara Bentancur Ramsey Perché McKennie Ha giocato tutte Non gli serviscono Calo Però il voto Dove essere quello E che cazzo Anche qua in questa azione Dove Pulgar colpisce la palla Di piede Da solo Smarcato Non è colpa sua Lui la spazza Però Dico anche a un chiesa Ma che ci fai In linea di rigore Se poi In 10 siamo lì E tutti soli in mezzo A colpire la palla Da una ribattuta Anche lì Azione da rivedere Piccolezze Piccolezze Non abbiamo fatto nulla L'unico tiro l'ha fatto lui Fede L'hai fatto te Sei meno Perché almeno Cazzo In quello che dovevi fa L'hai fatto Dall'inizio alla fine Puntare l'uomo E creare pericoli Hai fatto a morire in mezzo A Fiorentina Hai preso alle botte I calci Dai tuoi ex compagni Che comunque Sempre I soliti discorsi In 10 si soffriva E quindi era difficile Creare con continuità Morata Io onestamente A morata L'ho visto solo Del primo tempo Però Un'occasione Ho avuto Una Ronaldo Rubela palla Dragoschi In uscita Morata al pallone Poteva servire in era Ronaldo Bam Rimontato da Milenkovic Nulla Nulla Per quel primo tempo Che ho visto Se devo giudicarti In quel pezzettino Capelli rasati Come i capelli Che sto scomparsi A tua presenza in campo 5 più Ma che ti vuoi Che posso dire A morata Nulla È stato tolto Giustamente o ingiustamente Perdi Sei la Juve Devi rimontare Togli un attaccante In 10 contro 11 Doveva avere più la Juve La gestione del gioco Dovevi togliere una punta Perché in 10 contro 11 Anche quando sta in WL Io una punta la tolgo E anche se devo rimontare Perché mi serve Che ci sia la squadra dietro E le condizioni Per giocare di mettere in gol Chi può L'unico Il migliore in campo Che si salva Cristiano Ronaldo Sei più Perché comunque ha fatto Più del dovuto Del seino Perché in 10 contro 11 Ha provato a prendere A bacetto la squadra A portarla su Da solo non ce l'ha fatta Doveva saltare Mezza difesa Tutta dietro ad aspettarlo A marcare Milenko Invece a fargli una busta E poi nulla Tiro sull'esterno della rete Ha provato A slargarsi Sulla sinistra A centrarsi A scartare A tirare Juve che non accompagnava l'azione Perché aveva l'uomo meno E voleva evitare Delle ripartenze Difensive Come siamo partiti Subito male Sei più però Altro voto sufficiente Do a Danilo Perché Danilo è stato Il giocatore All'interno della stagione Della Juve di Pirlo Il più continuo Ogni cazzo di gara Non ha mai Deluso le aspettative Dall'inizio alla fine È sempre un giocatore Costante e continuo Per quello che ha fatto E poi come si è proposto Per come a volte andava Sgaloppava Prendevasi Il fallo Il giallo Degli avversari Ha provato a far il suo Quindi il 6 ci sta Berna Entra Per l'amor del cielo Ci mette Quella determinazione Quella voglia di rezzanare il risultato Poi quando fa un passaggio in avanti Tappiamoci gli occhi Perché è meglio 5 e mezzo Ma entra quando la partita Orgia ormai Insomma 45esimo Si poteva fare qualcosa Ma Prima si poteva fare di più Quanto tanto lui La partita Era già difficile da recuperare Che poi davvero Secondo ti puoi aspettare 5 e mezzo Pirlo Allora Parto dal presupposto Che non è colpa tua Se hai Bonucci in squadra Perché non è colpa tua Se hai Bonucci in squadra E se fa queste cappelle Quindi che cazzo di colpe Ne ha lui Se è quadrato Fa un fallo così E se Bonucci fa il coglione Però di certo Hai colpe Quando tu vuoi giocare Tutte e sante le partite In attacco Attaccando e riempiendo l'aria Non vuoi mai tirare il fiato Quando all'interno di un campionato Come tutti gli allenatori grandi Di esperienza ovviamente Insegnano Certe partite Va attirato il freno Non lo so Però ogni tanto È normale Che ci capita Sempre quando Tendiamo tutti in avanti Di prendere Il gol che abbiamo preso Che è stato Un sinonimo Di sottovalutare La gara Con una Fiorentina Che tutti Tutti Abbiamo sottovalutato Si pensava alla Juve Vai Ricorso perso Allora si ammazza La Fiorentina Bam No Gara sottovalutata Preparata in un modo Con Rabiot Finita in un altro Con l'uomo o meno Però Certi schemi Certe preparazioni In certe azioni Soprattutto alla scelta di Alexandro Al posto di Danilo Dall'inizio Io non la condivido Alexandro Non mi è neanche Piacciuto con il Parma Sempre Sempre Anche lui Un po' responsabile Di tutte le occasioni offensive Danilo l'avrei messo Era comunque un giocatore Che io avrei messo Danilo doveva riposare Tanto eravamo 10 giorni Senza fare una partita di casa Ci vediamo al prossimo anno Domani mi raccomando Alle 2 Premi della weekend Ve lo fa un bel video Il nostro decennio Dal 2011 al 2020 Anni di vittorie Vedi che cosa vuol dire Non esultare Quando vinci E quando sottoparti Gli scudetti Gli altri appena tuccati Cosa fanno Quanto godono Imparalo questo Prima che sia troppo tardi Anzi è già troppo tardi Forse Bella